Nessun migrante destinato alla provincia di Pescara finirà nelle tende allestite nei terreni del casso di Manopello, a meno che nei prossimi giorni non si debba far fronte a una situazione di emergenza legata a nuovi sbarchi. A precisarlo è la prefettura di Pescara. Dei 40 migranti di Ortona, infatti, i 10 assegnati alla provincia di Pescara hanno trovato alloggio in casso ordinari. Nel dettaglio due a Pescara, tre a Torri Valignani, uno a Penne e quattro a Bussi. L'allestimento delle sei tende accanto al centro di accoglienza straordinario dell'agriturismo MOF a Manopello rappresenta dunque solo una soluzione tampone e temporanea in caso di emergenza, come ribadisce Gaetano Losa, vicario del prefetto di Pescara. Le tende sono state installate in questa zona limitrofa al casso di Manopello perché è una zona idonea innanzitutto a punto di vista fisico e poi perché comunque si trova vicino a un casso di cui eventuali occupanti di queste tende potranno soffrire degli stessi servizi di cui già soffriscono gli altri ospiti del casso. Le tende sono utilizzate solo in estrema razio qualora il flusso di migranti non ci consenta di poter essere assorbito nelle normali strutture. È chiaro che noi in questo momento non le abbiamo utilizzate e non pensiamo di utilizzarle neanche a breve, quindi salvo che poi ci sia un flusso improvviso di persone per i quali dobbiamo necessariamente dare un'accoglienza. La situazione comunque in questo momento grazie al lavoro della prefettura e anche alla collaborazione di molti sindaci è sotto controllo perché è tanto vero che i 10 di ortona sono sistemati nelle strutture di accoglienza ordinarie. Le tende quindi è soltanto un'ultima razza che verrà utilizzata soltanto in caso di necessità. È solamente per il tempo strettamente necessario affinché poi questi ospiti vengano redistribuiti nelle strutture ordinarie. L'allestimento di queste tende nel comune di Manopello in questo caso si lega al fatto che in provincia di Pescara mancano strutture per i CAS che in questo momento sono già pieni. Allora c'è l'appello da parte proprio della prefettura ai cittadini per mettere a disposizione eventuali strutture. La distribuzione dei migranti sul territorio va fatta con la massima intesa e con la massima collaborazione insieme ai comuni. Quindi l'intesa con i comuni stiamo cercando immobili che in qualche maniera possono essere assegnati per l'accoglienza. Devo dire che sul territorio pescarese, a differenza delle province di Mitrofe, non riusciamo ad avere la stessa disponibilità di immobili. Per questo l'occasione di questa intervista potrebbe essere quella anche di chiedere, appellandosi allo spirito di solidarietà dei cittadini della provincia di Pescara, se riescono a avere disponibilità di immobili liberi che vogliono mettere a disposizione questa situazione emergenziale, ma comunque di solidarietà, di rivolgersi o alla prefettura o ai comuni stessi. E nello stesso tempo ci siamo rivolti anche al terzo settore per cercare di avere un aiuto. Anche degli appartamenti che sono in condizioni ovviamente di idoneità allogiativa, che hanno tutti i requisiti di sicurezza, che hanno comunque tutta l'agibilità, possono essere utilizzati per questo scopo. I gestori in qualche maniera si trovano, quindi sicuramente potremmo, grazie alla collaborazione dei cittadini e al supporto dei comuni, potremmo riuscire sicuramente a creare anche una situazione di accoglienza diffusa, che magari in questa provincia in questo momento è un po' carente rispetto alle altre.